Capitano Ragonesi per commentare un pareggio che probabilmente vi lascia un po' di amare in bocca per come è maturato? Quello sì sicuramente, oggi penso che abbia fatto un passo indietro, soprattutto nel primo tempo non c'eravamo, arrivavamo sempre dopo sulla palla, però nonostante tutto abbiamo avuto nel secondo tempo l'occasione per far gol come l'hanno avuto a loro. Mi dispiace, dobbiamo guardare alla prossima e cercare di riprendersi e cambiare un attimo anche mentalità e cercare di migliorare sotto vari aspetti perché se non riusciamo a tenere il ritmo alto e cercare di arrivare prima sulla palla facciamo fatica. Peccato anche vedendo gli altri risultati che vi avevo permesso di fare un passo in avanti. Ma sicuramente oggi una vittoria era fondamentale visto anche gli altri risultati, purtroppo è arrivato solo un punto, però ripeto, una partita che si poteva perdere ma si poteva anche vincere, abbiamo portato a casa un punto e guardiamo la prossima partita che è una partita difficile, andiamo a Como, sappiamo quello che è successo all'andata e cerchiamo di non ricommettere gli stessi errori. Come sarà una finale? La finale è sempre quella che arriva, quindi adesso sarà la prossima partita che è quella di Como. Grazie. Grazie.